L'amianto è un killer per l'uomo e per l'ambiente, provoca gravi patologie come mesoteliomi, tumori del polmone ed asbestosi. Anche la semplice esposizione è dannosa alla salute e crea infiammazione, come per il caso dei lavoratori della Firema che si occupavano della squibentazione delle carrozze ferroviarie e avrebbero diritto tutti al prepensionamento. Ed è per questo motivo che apprezziamo molto l'impegno dell'assessore della Regione Campania, dottoressa Palmieri, affinché possano ottenere il giusto diritto al prepensionamento. L'Ona è al fianco di questi lavoratori e si complimenta con la Regione Campania per l'intervento presso il Ministero del Lavoro perché possano questi dipendenti ottenere il prepensionamento e così questo appello è rivolto anche per tutti gli altri lavoratori, compresi quelli della Regione Sicilia ed in particolare del petrochimico di Priolo Cargallo. Speriamo che il Ministro del Lavoro accolga questi appelli e ponga il prevenzionamento.